Sì al contrario, o si? L'elettorio 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 d'oltre, oltre ora si? No, 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 la camera no, no, no ti dice del napa Guarda, guarda. Ahhhhh E voi? Prende lì! E per te lì qualcosa! Puoi usare anche questo, guarda. Qui? Questo qui, al contrario, al contrario... Qui? E voi toccare. Ahhhhh, che bello! Grazie.